Il centro storico di Sassari, tanto amato ma spesso criticato da molti cittadini per le condizioni in cui versano alcune zone e alcuni edifici. L'ordinanza numero 80 del 27 ottobre 2016 del sindaco in materia di disposizioni finalizzate al recupero del centro storico, sia sotto il profilo del decoro che della sicurezza dei cittadini, parla chiaro ai proprietari di immobili, locali commerciali e palazzine, di prodisporre l'infaccimento delle facciate, di provvedere alla sostituzione degli infissi danneggiati, di sostituire o eliminare i pluviali, le tubature o altri elementi esterni danneggiati, laddove tutte queste situazioni possono arrecare pericolo, danno e problemi di igiene pubblica. Per diversi edifici e diverse palazzine permangono condizioni di degrado e spesso di pericolo. Alcune di queste sono situazioni note da tempo per le quali l'intervento della polizia locale, unitamente ai vigili del fuoco, ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area soggetta al crollo di cornicioni o addirittura al crollo dell'intero edificio, come nel caso di questa palazzina. Ma è palese che non basta questo tipo di intervento, l'unico risolutivo, peraltro determinato all'ordinanza comunale, è quello dei proprietari. Ma anche qui la polizia locale spesso si trova a dover fronteggiare situazioni diverse e complesse, dove i proprietari, nonostante gli avvertimenti, le ordinanze reiterano nel non voler provvedere a ripristini richiesti, oppure ad immobili che fanno capo a diversi proprietari, dove capita che ci siano contenziosi aperti. Insomma, una variegata gamma di situazioni che l'impegno della polizia locale fronteggia ogni giorno. Molti risultati sono stati ottenuti grazie anche alla sensibilità degli agenti, che hanno cercato nel tempo di stabilire un rapporto di collaborazione con i residenti, per cercare di sensibilizzare l'importanza del decoro, dell'igiene e soprattutto della sicurezza. Nel tempo tale missione ha portato esempi virtuosi, passeggiando per i vicoli e le piazzette del centro storico infatti, ci si imbatte in palazzine ristrutturate, con accanto situazioni di degrado e abbandono. Ma i vigili non hanno dubbi, il degrado richiama altro degrado, occorre sanare tutte le situazioni e anche se noi cerchiamo di non intervenire con le sanzioni fin da subito, ma con un'opera di sensibilizzazione spesso è necessario arrivare alle ammende. Una cosa è certa, un centro storico elegante, pulito e decoroso fa percepire ai cittadini più sicurezza.